Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La domanda è, appunto, la domanda più semplice o forse la più complessa. Chi è Cesare? Allora, io sono Cesare, 52 anni, sono di... abito vicino a Torino e sono un appassionato motociclista. Appassionato perché in passato ho corso in moto da giovane tra i 15 e i 20 anni facendo motocross. E poi avevo lasciato perdere completamente la moto, ho fatto altri sport, sono sempre stato abbastanza sportivo, bicicletta, sci, snowboard, windsurf, insomma. E poi, a 40 anni, grazie ad una serie di amici, abbiamo riniziato ad andare in moto, un po' per divertimento, facendo delle cavalcate che poi si sono trasformate in gare, e poi in gare più lunghe, e poi in gare all'estero, e sino ad arrivare a questo percorso che mi ha portato a partecipare alla Dakar. Te l'ho detto un po' stringata. Questo è l'aspetto sportivo. Poi, invece, dal lato umano, io faccio... ho una bottega dove vendo abbigliamento e calzature, in un paesino dove vivo, dove si sta benissimo perché è tutto in mezzo ai boschi, un po' fuori a 30 chilometri da Torino, un'area geografica molto bella, ottima per andare in bicicletta, per andare, per stare nella natura, e ecco perché faccio queste discipline così, fuori stradistiche. Abbiamo visto che hai partecipato alla Dakar, però non è la prima Dakar. Allora, partiamo dalla prima. La prima Dakar non è stata così semplice, oltre che in realtà è arrivata nel momento in cui forse non ti aspettavi di partecipare. Esatto. No, in realtà, allora, il mio cammino verso la Dakar è stato di gare precedenti in giro per il mondo, sempre più complesse, però per poterti iscrivere e per partecipare devi maturare un certo... un po' di esperienze. pertanto la società organizzatrice della Dakar si promuove nel mondo organizzando delle gare dove puoi partecipare e in paglio c'è l'iscrizione alla Dakar al primo classificato tra esclusi professionisti. Allora, visto il costo molto elevato dell'iscrizione in questa gara, andai, partecipai ad una gara in Australia con queste caratteristiche e fu... al momento fu... arrivai secondo della mia categoria, no? vinse un americano che vinse appunto l'iscrizione, questo accadeva nel 2014, vinse questa iscrizione per partecipare all'edizione del 2015, ma non so perché si ritirò. pertanto l'organizzazione mi ha comunicato, mi contattò per dirmi sei di diritto, puoi partecipare alla Dakar, non alla prossima edizione, questo avveniva ad ottobre, per cui ho avuto pochissimo tempo per prepararmi perché considera che ai primi di dicembre si consegnano le moto, all'epoca la Dakar si svolgeva in Sud America, bisognava consegnare le moto, la moto nel nord della Francia, perché partisse e raggiungesse... quell'anno partiva da Buenos Aires e ritornava, andava in Cile, in Bolivia e ritornava a Buenos Aires, pertanto ho fatto tutto in maniera velocissima, mi sono organizzato, ma probabilmente non avevo sufficiente esperienza per affrontare una gara così complicata. Infatti dopo solo due giorni ho avuto una disavventura, mi sono trovato in un'area molto molto calda, tra il confine tra l'Argentina e il Cile, da temperature di 50, quasi 52 gradi, dove si è verificato un problema tecnico e la mia moto si è incendiata e non c'è stato nulla da fare per poter domare le fiamme, si è bruciata completamente e la mia esperienza terminò lì. Per cui sono ritornato a casa piuttosto amareggiato e mi era rimasto questo desiderio di ritornarci per chiudere la... perché avevo lasciato aperta un discorso e non mi piaceva che andasse in questo modo. Però la moto non era mia, me l'aveva prestata un mio amico, pertanto l'ho dovuta ricomprare e per un po' di tempo è stato veramente complicato e avevo anche un po' smesso di andare in moto, avevo detto forse questo è un segnale che mi è arrivato, visto che non ero più giovanissimo e ho detto forse è bene che si chiuda qua. E poi invece sono ritornato, ho fatto di nuovo un paio di rally, ho visto che c'era comunque gente della mia età che faceva queste cose, ho detto beh, allora posso continuare. Quando nel 2019 hanno presentato l'edizione si chiudeva il capitolo del Sud America e si apriva un nuovo capitolo, quello della Dakar, con un percorso nuovo e inedito in Arabia Saudita. Allora sono rimasto attratto da questo luogo che pochi sino ad allora avevano visitato. Io faccio questo tipo di gare anche perché mi piace gareggiare, mi piace l'aspetto della competizione, ma soprattutto per vivere questi luoghi e per godere di questi aspetti del viaggio su una motocicletta, in posti dove vanno poche persone, perché effettivamente facendo questi rally è la fortuna di visitare luoghi perché sei veramente lontani da tutto, sei in mezzo al deserto, sei su delle montagne, sei in valli dove magari per 300-400 chilometri non vedi anima viva, visto l'estensione dei territori. Per cui si era, ho detto bene, l'occasione per ripresentarmi e poter chiudere la pratica che era rimasta aperta anni prima in Cile. Così mi sono riorganizzato, ho partecipato all'edizione del 2020 durante la quale ho avuto un po' di disagi perché non è facile riuscire a far andare tutto liscio, però sono arrivato alla fine ed è stato un ottimo risultato. Così ho deciso di ritornarci, ho partecipato all'edizione di quest'anno. Quest'anno è andata bene, meglio di quanto avessi pensato e pertanto ho detto va bene, allora ci ritorno anche il prossimo. Per cui ora sto preparando l'edizione di gennaio 2022 che stanno preparando ora, per la quale però bisogna iscriversi entro il 15 luglio. Pertanto nonostante si tratti di un evento sportivo che si svolge a gennaio bisogna lavorare già durante tutto l'anno, sicuramente con gli allenamenti, ma anche con i preparativi della moto, di tutto ciò che servirà poi durante questo viaggio. Il momento più emozionante dell'ultima Dakar, qual è stato? Guarda, intanto durante quei giorni la vita si modifica completamente perché fatti conto io lavoro in una botteghina in un paese, il ritmo è molto lento e lì di colpo ti trovi immerso in una realtà dove tutto corre veloce, dove devi fare tutto in tempo e sei sempre in ritardo, succede, sembra che un giorno duri una settimana. Per cui vivi delle esperienze molto forti ed intense. A me questo aspetto piace moltissimo, soprattutto perché entri in contatto con persone da tutto il mondo che hanno la tua stessa passione, per cui ti trovi immerso in una realtà di gente appassionata, tutti stanno facendo qualcosa per cui hanno lavorato duramente per tutto l'anno, sì, questa dimensione si respira proprio e c'è una certa tensione perché si sa che di tutti quelli che partono poco più di metà arrivano, per cui sai che stai correndo sempre un rischio e l'obiettivo per molti è quello di arrivare alla fine, non di pensare di vincere. Quello è per i pochi professionisti che vi partecipano, quelli come me, gli amatori, gli appassionati, il risultato è veramente riuscire ad arrivare in fondo. Per cui ogni giorno provi questa emozione, prima c'è questa attesa che sembri non arrivare mai, poi arrivi quando sei lì e riesci a fare tutte le pratiche che sono piuttosto complesse. Quest'anno poi l'ho stato molto di più con il Covid, abbiamo avuto questo privilegio di viaggiare all'estero in un momento in cui nessuno si muoveva, per cui passi dal freddo, io abito un po' in montagna, passi da un'area fredda ad un'area caldissima, e poi finalmente quando sali in moto e puoi partire, lì si aprono degli scenari in cui capisci che è valso tutto la fatica, il lavoro, le spese, perché viaggi in questi luoghi magnifici. E poi ci sono un mucchio di aneddoti che potrei raccontarti, di quello che accade durante la gara, di quando incontri le persone in difficoltà e puoi magari prestare il tuo aiuto o lo ricevi. si creano delle situazioni molto belle di amicizia, si vive così intensamente, così legati tra i partecipanti che si generano delle situazioni che ti rimangono per sempre. Per me questo è l'aspetto bello di questa esperienza. E' un aneddoto bizzarro che ti è capitato durante l'ultima? Ma quest'anno ti devo dire è filato tutto abbastanza liscio. Poi devi considerare che ogni giorno stai, almeno nel mio caso, quando mi va bene io parto alle 5 del mattino, se va tutto bene arrivo alle 5 di pomeriggio, per cui fa 12 ore di moto. Certe volte arrivi un po' dopo, diventano 13, 14. Per cui succede un po' di tutto. Succede che cadi, succede che rompe un pezzo, succede che hai bisogno. Quest'anno è successa una cosa, il primo giorno mi è successa una cosa che avrebbe potuto compromettere tutta la gara, perché sono caduto durante il trasferimento a causa di un... era buio, e non mi sono accorto che sull'asfalto c'era del gasolio lasciato da un camion che mi aveva preceduto, e vedendo un mio amico fermo sul bordo strada, ho frenato per vedere cosa gli fosse capitato, e la moto mi è scivolata e sono caduto, mi sono praticamente... mi sono raschiato tutto, e lì c'è stato un attimo di panico, perché per una banale caduta così puoi compromettere, se spacchi la moto, la tua gara è finita al giorno 1, per cui dovevo ancora iniziare la prima speciale, e io ero già in terra, mi ero rotto il casco, i guanti, la giacca, però meno male, non mi sono fatto male, e per cui non ho dovuto ricevere delle cure particolari, non... nella moto non si è danneggiata, e forse è stato un episodio che mi ha messo un po' allerto, mi ha detto fai attenzione, perché qui vedi che tutto può succedere, non stavo né correndo, né andando in maniera irresponsabile, però è accaduto, e così sono partito molto attento, cercando di non commettere sciocchezze, a volte ti distrai un attimo e fai subito un pasticcio di questo tipo, per cui la gara è iniziata un po' in maniera attenta, e poi sono... e poi abbiamo proceduto, ed è andata bene, e sono arrivato alla fine. Stai sulla moto, effettivamente stai guidando, hai il paesaggio attorno, allora c'hai fame, c'hai sete, devi andare al bagno, c'è tutto, però oltre a chi te lo fa fare, ma soprattutto però quando alzi lo sguardo, le emozioni che senti, la sensazione che provi, perché c'hai un paesaggio diverso, cioè una... che molto non vedo. Allora, guarda, gli spazi, quando vai nel deserto, beh, deserti ci sono un po' in tutto il mondo, però di solito deserto si intende uno spazio molto ampio. Noi non siamo abituati in Italia, in Italia è tutto piccolino, ma significa che fai con... uno, non vedi mai nessuno, due, le strade, o laddove ci sono le strade, o le piste, è un conto. A volte noi viaggiamo dove, come fosse nel mare, dove seguiamo una rotta, ma siamo fuori dalle strade, praticamente su dei terreni vergini, dove c'è solo la sabbia. Questo è il caso quando attraversiamo le dune, seguiamo una bussola che ci indica una direzione e lì vai... cioè noi non siamo abituati a vedere questi spazi perché... ed è questa la bellezza, perché vai per chilometri e chilometri salendo su per le dune, sali, scendi, sali, scendi e tutto dove ti guardi vedi solo dune, per cui hai questa immagine di immenso veramente a cui noi difficilmente in Italia, ma anche in Europa, credo, non ci siano delle situazioni paragonabili. Questo può accadere appunto, non lo so, nelle aree estese del mondo, dove le distanze sembrano più ampie. Per cui, questo è un bel aspetto. durante il giorno allora non posso dirti che mi renda veramente conto di dove mi trovi perché alla sera vengono trasmesse delle immagini riprese durante la giornata, soprattutto dall'alto, dagli elicotteri e dici porca miseria ma oggi siamo passati in mezzo a questi canyon perché normalmente in moto sei molto concentrato a guardare dove stai andando, hai un guardi davanti a te, cerchi di allungare lo sguardo ma non ti puoi proprio fermare e godere il panorama, guardarti esattamente intorno. Per cui ti accorgi di essere in posti bellissimi per la natura che ti circonda ma non riesci a capire esattamente dove ti trovi. Però ti devo dire quest'anno è successo un episodio particolare, ha piovuto cosa che uno non si aspetta molto che accada nel deserto in realtà piove anche lì dunque siamo passati in aree dove sulle dune di sabbia era cresciuta l'erba e da lontano sembravano delle avevano un aspetto stranissimo perché c'era si vedeva un verdino che era assolutamente innaturale perché nell'immaginario le dune sono di color oro sono marroncine sono senape a seconda delle ore può cambiare il colore sono bianche sono e invece si vedeva questo paesaggio assolutamente fantastico tutto un po' sui toni del verde per cui era cosa che magari dura pochissimo perché sai ritornando poi il secco si esaurisce tutto questo verde magari dura una settimana dieci giorni e non si vedrà più nulla per cui abbiamo avuto anche questa fortuna di passare in questi paesaggi incantati per quanto invece mi dici del mangiare o del bere allora per regolamento a bordo devi avere tre litri d'acqua devi partire con tre litri d'acqua e ogni rifornimento ogni 250 chilometri c'è un rifornimento è previsto che si faccia un rifornimento di benzina e lì ti puoi hai una neutralizzazione del tempo di gara di un quarto d'ora o 20 minuti e ci sono delle bottiglie e ti riempi il tuo camelback io ognuno ha le proprie abitudini ma tutti si portano delle barrette o dei gel o comunque degli alimenti la frutta secca le non lo so ognuno sai ha le proprie abitudini nel mio caso io mi porto delle mandorle perché non mangiare per tutto il giorno è fastidioso va bene i gel che ti nutrono però avere masticare un po' fa bene per cui durante queste pause prendo un gel e mangio un po' di frutta secca e poi riparti e sei talmente concentrato che ti dimentichi un po' dell'aspetto cibo fai una grossissima colazione in modo da poter durare bene tutto il giorno la sera poi si cerca di ristabilirsi senza esagerare perché altrimenti poi hai poco tempo per dormire devi cercare di riposarti e stop e poi si riparte il giorno dopo con le stesse caratteristiche però a fine giornata molte squadre hanno chiaramente l'assistenza ma in quel caso tu la manutenzione e la gestione della moto la fai tu sì io sono in una categoria che si chiama original by motul precedentemente si chiamava mal moto mal vuol dire cassa in francese dove gli iscritti a questa categoria possono avere trasportare una cassa con i propri ricambi due ruote le gomme la società gli organizzatori si prendono cura di trasportarti la tenda la tua borsa da un bivacco a quello successivo e non possiamo godere dell'assistenza meccanica dobbiamo farci le cose da soli per cui quando è terminata la gara inizia il secondo round che è quello dei lavori che sono che si rendono sono assolutamente necessari cambio olio cambio filtro ognuno ha le proprie abitudini le proprie pratiche ma queste cose sono comunque da fare quotidianamente è importante la gestione della gara perché cadere significa rompere dei pezzi vuol dire la sera dover mettere mano alle riparazioni fare questi lavori per cui si prolunga lavoro si riducono le ore di sonno e diventa complicato meno cose ci sono da fare più in fretta riesci a farti lavori il rifornimento magari cambiare le gomme e poi ti puoi riposare e ripartire di nuovo però è abbastanza frequente che si passino che di notte ci sia che restino delle persone che si attardano a lavorare per cui capita sovente sovente di vedere appunto questi episodi in cui la gente non dorme la notte e poi la fatica si somma quella della giornata spesa diventa difficilissimo perché senza il sonno il caldo e la stanchezza la gara si trasforma e inizia ad essere un po' in salita adesso passiamo al presente perché già abbiamo detto che stai già preparando per la nuova pagina di Gira Car ma la imminente è la a Pescara esatto allora in realtà si tratta di un sarà un'area in provincia di Chieti che ospita la seconda prova del campionato italiano motorelli il weekend del 26 27 28 giugno per cui questo è un ottimo allenamento perché la regione è molto bella direi che tra gli spazi a parte che le gare si svolgono sempre un po' delle vostre parti Marche Umbria Abruzzo sono regioni che ospitano dove c'è una bella tradizione passione per il motociclismo e un po' per la densità di abitanti un po' per i territori molto belli le prove del campionato si svolgono prevalentemente in quelle aree e io sono felice di venirvi perché trovo sempre accoglienza gente simpatica si mangia bene dei bei paesi per cui trovo questo campionato molto interessante e divertente ed è per me una bella opportunità per continuare a mantenermi così in allenamento in agosto parteciperò invece ad una gara in Turchia più lunga che si chiama Transanatolia parte dall'area di Istanbul e si sposta verso est sino ai confini con la Georgia una settimana di gara con tanti tanti chilometri tra le montagne quello è un super allenamento in vista della gara appunto della Dakar di gennaio concludendo la sensazione cioè ultimamente sei stato poi intervistato tante persone tanti giornali la Rai abbiamo visto il servizio sulla Rai che sensazione ti dà soprattutto quando la gente ti incontra per strada e dice ma ti ho visto in televisione per il telegiornale ma guarda mi ha fatto molto piacere perché allora quest'anno devo dire complice il covid sicuramente c'è stato più seguito perché la gente era costretta a casa purtroppo per cui non potendo uscire non potendo andare a cena fuori essendoci pochi eventi in giro per il mondo questo è stato per gli appassionati o comunque poi a cascata perché l'amico parla di quello che ha visto per cui c'è stato parecchio seguito mi ha fatto molto piacere perché ho ricevuto un mucchio di sostegno ricevevo messaggi da casa dagli amici dal insomma dagli appassionati di moto quando poi sono ritornato è stato molto bello perché i giornali locali mi hanno dedicato uno spazio in cui raccontavano cos'era successo e ho incontrato molte persone in paese che non conoscevo anche delle persone anziane che mi hanno fatti complimenti delle signore che mi hanno detto ah ma io l'ho vista l'ho vista in televisione l'ho seguita su facebook ed è una cosa effettivamente molto carina che non ti aspetti perché magari pensi che sia solo quello come me l'appassionato il motociclista invece mi sono reso conto che questa gara ha un pubblico molto trasversale un po' ha generato probabilmente un mito si sente parlare di questa gara da tanti anni e credo che tutti la conoscano un po' anche solo per sentito dire c'è questo rimando all'avventura agli spazi all'Africa in generale e pertanto mi ha fatto super super piacere e consiglio che ti hanno chiesto o la domanda più bizzarra strana che ti hanno fatto ma ecco quelli che non conoscono molto la disciplina dicono ma come fate ma dove dormite dove mangiate ma come ma è per andare in bagno no e in realtà dietro a tutta questa gara c'è un'organizzazione enorme che provvede quando arriviamo alla sera alla fine della tappa a creare una una specie di di villaggio che che nasce nel nulla che ogni giorno si sposta e che ospita tutto dove c'è un ristorante dove puoi mangiare 24 ore su 24 dove ci sono i servizi medici dove ci sono le docce dove c'è dove ci sono i bagni i cronometristi la sala stampa per cui è praticamente un'area che corre un po' come fosse il giro d'Italia in bicicletta si sposta da una città all'altra la differenza è che lì nasce questo bivacco in mezzo al nulla però è tutto gestito in maniera molto efficiente per cui possiamo essere assistiti dormire mangiare nutrirci e ripartire e fare vivere questa bella avventura bene ti ringrazio molto per questa opportunità mi è fatto super piacere che parliate di moto anche attraverso un canale che non è normalmente il vostro ma sicuramente può attrarre tanti appassionati così che magari giovani si possano avvicinare a questa disciplina dei rally in moto che è molto interessante e divertente ed è sana come ogni sport che voi rappresentate di immagini gopro non ne ho ma un video molto carino che mi ha montato un mio amico che aveva appunto una gopro sai perché non ho una gopro uno perché non sono tanto tecnologico due perché per utilizzare una gopro la la società organizzatrice ti chiede un contributo di 16.500 euro per cinque minuti di ripresa al giorno pensa che follia è quanto l'iscrizione è quasi quanto l'iscrizione sì che no è di più l'iscrizione costa 15.700 e se vuoi andarci lì a riprendere ti chiedono questi diritti televisivi miglia parecchio possiamo dire miglia a